Un uomo di origine tedesca è stato trovato morto in casa con la testa appoggiata nel frigorifero e completamente nudo. L'allarme è scattato in un appartamento in zona Fidene, a Roma. Sul posto la polizia. A chiamare le forze dell'ordine un amico della vittima, un cittadino tedesco di 65 anni che non riusciva a mettersi in contatto con lui da ore e per questo ha deciso di chiamare 118. Sul posto sono arrivati i sanitari che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da una prima ispezione del corpo sembrerebbe trattarsi di una morte avvenuta per cause naturali, forse un malore improvviso. Delle indagini si sta occupando la polizia insieme ai colleghi della polizia scientifica. Gli accertamenti sono tuttora in corso. La casa era chiusa dall'interno, non ci sarebbero né segni di violenza né di effrazione alla porta. Non è escluso che l'uomo cercasse refrigerio dal caldo aprendo al frigorifero e in quel momento sia stato colto da malore. Sulla salma è stata disposta l'autopsia per fare piena luce sul decesso.